Allora, partiamo sempre dalla stessa posizione, mi trovo in questa posizione. Non mi interessa adesso il braccio, o lui lo ritrae per non farselo prendere, o non mi interessa adesso il braccio, cosa faccio? Con l'altra mano, anziché andare a prendere il braccio, vado a prendere il pantalone, ok? Il mio lavoro sarà questo, blocco, mi allontano, nel momento in cui salgo e spingo. Quindi ragazzi il lavoro è questo, qua, questo, come se avessi un volante in mano, ok? Ok, oppa, facciamo, entro, ok? Da questa posizione, o non riesco ad andare a prendere il braccio, oppure non mi interessa nemmeno il braccio. Ok, non muorgo il pantalone, finché non vada stabilita la posizione. Controllo. Ok? 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 Oss. Grazie a tutti